Si è appena conclusa la gara dei sette anni e Bruno Pieri sembra aver preso oramai sempre più confidenza con il campo della premiazione dopo la Coppa delle Nazioni anche oggi sul podio. Ma sicuramente la gara di ieri è stata quella che è un'emozionata, è un'emozionata, è un'emozionata, è un'emozionata, è un'emozionata. E' un'emozionata che ha il contorno, è un'emozionata, è un'emozionata di oggi che potranno magari capire questi terreni, quindi ci dobbiamo applicare l'etto. Il Piazza di Siena, quali le tue impressioni fino a questo momento? Ma è fantastico, abbiamo i migliori cavalieri al mondo, abbiamo un campo anche dai brividi, soprattutto per i vengono italiani, è un concorso fantastico. Stasera Alessia e Marielle, domani un gran premio, ma ieri un'emozione a un ascoltatore della Coppa. Sì, ieri un'emozione grandissima perché comunque due anni di fila, diciamo che era io reale, ma i ragazzi sono stati fortissimi. Io ho cercato di dare il mio appoggio per quello che ho fattuto per creare appunto questo spirito di gruppo che si sta creando, ormai da, che si è creato ormai da un paio d'anni ed è stata una vittoria sicuramente importante e rinocionantissima. E domani il gran premio? Domani il gran premio, con Alifax, è molto in forma, siamo andati giovedì e venerdì molto bene, quindi sono molto, molto positivo. Spero di dare il meglio domani davanti al nostro pubblico. Luca Moreno, come stanno andando le gare? Ah, oggi è stata una giornata positiva, lei è reglisa, 7 anni, è un momento, sono secondi, ma è un cavallo, quindi sicuramente le toglie, sono molto orgoglioso di lei, perché è la nuova, ci conosciamo tantissimo, mi fa molto sperare, è molto positivo. La gara di prima, anche tu è la stavolta, è stata buona? Sì, ho fatto un bel quinto posto con la me, che è stato un po' a me, e lei è una nuova entri, e lei è una nuova, molto speciale, mi trovava tantissimo, mi trovavo molto, molto molto grande, e mi sento un giocatore, mi sento un giocatore, mi sento un giocatore. Grazie mille. Io ho una coppia, come stanno andando le gare? Ah, oggi è stata una giornata positiva, lei è reglisa, 7 anni, e al momento siamo secondi, mancò un cavallo, sicuramente a Vettorio, perché siamo molto orgogliosi di lei, è una cavalla nuova, Ci conosciamo tantissimo e infatti la città è una cosa molto positiva. La gara di prima è stata andata a Bolognese. Sì, ho fatto un bel quinto posto con l'Ame di Pasquette. Ho fatto un bel quinto posto con l'Ame di Pasquette. E lei è un bel momento, è una gara molto speciale. Mi trovavo tantissimo. Mi trovavo molto grande. Ci faccio, ci faccio.